Io vi sento di Caserta, ma che cosa dobbiamo andare a comprare? Quindi, così come sono interessato ad ascoltare chi offende il sindaco o l'amministrazione e per educazione ascolto, devono ascoltare pure me. È un offerto, per quanto mi riguarda, così io sono anche un cittadino, anche io ho il diritto di esprimere il mio pensiero, è un offerto, non tutti, per carità, ma ci sono delle attività veramente che questa città non merita. Quindi, diciamo, datevi una svolta pure voi. Io me la do, ma datevola pure voi. Perché i casertani questo dicono, dicono, e questa è voce di popolo, quindi voce di Dio, che quelle attività non sono idonee a fare acquisti. Grazie. Questo è il suo parere. È un mio diritto, pure io posso dire. No, 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 ma io sul parere suo lo possono esprimere tutti, infatti ci sono tutte le varie domande. Prezzi esagerati, prezzi esagerati. Però il giudizio è diverso dall'esprimere un parere. Io perciò la fermo. Prodotti superati, prezzi esagerati, non corrispondenti al mercato, e io ho voglia di fare il mio pensiero. Da consumatore non andrei mai a consumare lavoro.